Lui è il segretario, se prendo due talk da solo. Gira slide, ecco qua. Allora Marco, l'avete già conosciuto, il segretario dell'associazione, una figura importante insieme a tutti gli altri consiglieri del direttivo. E adesso ci parlerà di come gestire la valorizzazione di magazzino, che è uno dei tanti argomenti che vengono spesso chiesti dai clienti, se no puntualmente mi serve la valorizzazione di magazzino. Ma quanto c'ho in magazzino? Esatto. Lo scopriremo solo ascoltando. Buon lavoro. Eccoci qua. Fortunatamente è l'ultimo talk, e quindi siamo tutti, vi prendo stanchi, ok? Valorizzazione di magazzino. Noi abbiamo due concetti che molto spesso vengono confusi dalle aziende. Una cosa è la valorizzazione del magazzino, che io definisco come concetti standard, e un altro è la valorizzazione dell'inventario, che sono due momenti completamente diversi, secondo il mio punto di vista. Ok? Valorizzazione standard in on-do. Noi lo possiamo fare con tre tipologie. Essi configurano nella categoria del prodotto, quindi non sul prodotto. I prodotti in una categoria vengono valorizzati tutti allo stesso modo. Abbiamo tre possibili scelte. Questo è quello che esce proprio di do-do standard, senza moduli aggiuntivi, eccetera, che possono esserci. Quindi prezzo standard o costo standard, in cui io stabilisco qual è il valore che do a quel prodotto, e quello rimane sempre, non viene cambiato. Un'altra metodologia è FIFO, quindi FRIST-IN FRIST-OUT. Ultima metodologia è il costo medio, su cui andremo un pochino a discutere dopo. Dopodiché abbiamo due tipologie, che può essere manuale o automatizzato. Manuale il sistema non fa niente. Automatizzato il sistema fa delle scritture contabili, su un giornale, quindi prima nota, che vanno a valorizzare i movimenti di magazzino che vengono fatti. Prezzo standard, vado in anagrafica, inserisco il prezzo, e questo per me sarà sempre la stessa cosa. Una cosa importante, che è nascosta all'utente, che non si vede, è che ogni cambiamento che io faccio del valore standard viene conservato in una tabella che si chiama Product Price History. Quindi il sistema, quando io analizzo i dati, per esempio voglio analizzare i dati di gennaio, lui mi tirerà fuori il valore che avevo a gennaio a quella data, che avevo imputato al sistema a quella data. Il metodo FIFO, quindi vado a fare un esempio, per esempio acquisto 10 pezzi a 75 centesimi, il mio valore di magazzino è di 7 euro e mezzo, ho una vendita di 5 pezzi, lui prende il valore di magazzino, 5 pezzi, 3 euro e 75, è abbastanza semplice. Compro altri 30 pezzi a 85, il valore di magazzino, quindi ho 35 pezzi, vengono valorizzati 30 al nuovo prezzo, e 5 al prezzo, al costo che avevo precedentemente. Quindi io ho un costo unitario di 83,57. Nel momento in cui io vado a vendere, quindi ho una diminuzione di altri 20 pezzi, il sistema in maniera automatica dice, guarda, ne hai venduti 15, quindi ne avrai in magazzino altri 15, e li valorizzo al prezzo, al costo ultimo che io ho avuto negli ingressi. E quindi in questo caso, da questo momento in poi, il mio costo unitario è di 85 centesimi. Il sistema questo lo fa in maniera automatica, senza che ci sia bisogno di nessun intervento. Il costo medio funziona in una maniera che può sembrare simile, però ha delle differenze. Vado sempre a fare una, lo valorizza, un costo medio calcolato sulle giocenze, e lo vengo a spiegare. Acquisto 10 pezzi a 75 centesimi, il mio valore di magazzino è di 7 euro e mezzo. Vendo 5 pezzi, il mio valore è dato da 5 per 0,75, 3 euro e 75. A questo punto faccio un acquisto di 30 pezzi. Il valore di magazzino, per me è dato un totale di 35 pezzi, in cui sono 30 a 85 centesimi, e 5 a 0,75. Però nel momento in cui io vado a vendere 20 pezzi, a differenza del metodo precedente, lui mi dice che il valore dei 15 pezzi è dato con il costo unitario che aveva calcolato precedentemente. E quindi in questo caso io ho che il valore del magazzino è di 12,60, mentre quello di prima era di 12,75. Quindi questa è una media, non di tutto il periodo, quindi io dico voglio valorizzare con una media che va da gennaio a dicembre, quindi conto tutti gli acquisti che ho fatto. Lui dice il saldo finale, la giacenza che c'è in magazzino oggi qual è? Valorizzata dopo che aggiungo, faccio la media sull'ultima entrata con le giacenze che avevo precedentemente e quello per me sarà la mia nuova base. Questo metodo è un metodo molto interessante perché si avvicina a quello che è il concetto di costo ultimo, però mediato con le giacenze che avevo. Ed è un valore che è molto significativo nel momento in cui analizzo da un punto di vista manageriale il mio magazzino. Voglio fare una vendita, voglio sapere quanto vale, questo mi darà un valore che è molto vicino alla realtà di quello che ho in questo momento nel mio magazzino. Quindi questo, da un punto di vista commerciale, è molto utile. Se io volessi sviluppare un listino prezzi che si basa sul costo medio, lo posso fare da questo e dico ok, prendi il costo medio che ho e aggiungi un margine del 30%, 40% quello è, secondo quello che imposto nel listino e io so che tutte le mie vendite, quindi il mio listino prezzi, è aggiornato con quello che ho effettivamente nel mio sistema. Ok? Torno all'opzione di automatizzato, che secondo me è una traduzione forse anche sbagliata, che in inglese può avere un senso, in italiano un pochino meno. Il sistema che cosa fa? Segue un po' quello che è la contabilità anglosassone. In contabilità anglosassone loro dicono ok, hai comprato della merce, quindi tu hai un costo per chi ha acquistato della merce, però ti aumenta un conto di prima nota in cui ti va a dire guarda, io andare in avere aggiungo il valore che mi deriva dal costo che ho in magazzino. Ok? Che significa? Che se io ho un costo standard, quello che ho messo all'inizio, pago, dico, il costo standard di 70 centesimi, lui, qualsiasi ingresso che ho, me lo valorizza a 70 centesimi, anche se io pago effettivamente 75, 85 centesimi ho valori diversi. E questo lui me lo mette proprio come scrittura contabile all'interno del sistema. Quindi se vado a vedere uno stato patrimoniale dell'azienda, avrò che il magazzino è valorizzato, è valorizzato in maniera automatica con delle scritture contabili. Ho raccontato questo, ma io in Italia non ho mai visto nessuno che voglia avere questa roba qua. Figuriamoci a scrivere nel libro giornale che finisce, che è un oggetto controllato quando mi vengono a fare le visite, vado a scrivere tutti questi movimenti qua. Cioè, spiegare una roba del genere a qualcuno della Guardia dei Finanze inizia a essere un po' complicato. Però all'estero fanno anche così. Questa è un'uscita del magazzino in cui vado a vedere stock e valorizzazione di magazzino che si muove come scrittura contabile. Una cosa importante, all'interno di Odoo, sono i stock move che movimentano le giacenze. E quindi la quantità del singolo prodotto che entra a cash nel mio magazzino. Gli stock move non necessariamente sono legati ad ordini di vendita o di acquisto. Ok? Perché io posso fare movimentazioni. I valori che abbiamo preso in esame, quindi in questo esempio che vi ho fatto vedere, sono tutti quanti legati agli ordini di acquisto, non alle fatture. Ok? Perché se in un flusso corretto di Odoo io ho l'ordine di acquisto, un'entrata a merce e un controllo della fattura che deve rispecchiare quello che è l'ordine. Io quello che dico ai miei clienti, perché molti storcono il DASO, dicono no, ma io voglio avere solo la fattura e caricare la fattura, io gli dico, ora tu per fare un ordine scrivi 10 informazioni, per fare una fattura ne scrivi altrettanto 10, se tu scrivi l'ordine e poi premi un click e ti ha fatto la fattura, hai fatto lo stesso mestiere, però c'hai una situazione che ha un flusso che è controllato. Tutto questo che abbiamo visto per me va benissimo per quanto riguarda la gestione di magazzino, però valorizzare l'inventario è una cosa diversa, perché il valore di inventario è quello che io calcolo, generalmente al 31-12 e dico quanto vale il mio stock in quella determinata data. Questa operazione qua la fanno generalmente i contabili che prendono il valore del magazzino e iniziano a inserirlo dentro al bilancio. Quando fanno questo è quando si stanno preparando a fare il bilancio, il che significa che arrivano a marzo, ad aprile, a maggio, qualcuno anche a settembre e vogliono sapere il valore del magazzino che era al 31-12, però nel frattempo sono successo un sacco di robe. Poi un'altra cosa molto importante, alcune aziende hanno l'obbligo della contabilità di magazzino, e quindi devono stampare il libro degli inventari. Poi devono definire all'interno del bilancio quale metodo hanno usato per valorizzare il magazzino, per valorizzare l'inventario e quindi questo è leggermente diverso da quello che abbiamo visto prima. Ai fini di bilancio sempre quindi dell'inventario abbiamo che viene data prevalenza al valore che io ho nella fattura, perché in fattura potrei avere un valore che è diverso dall'ordine. Si usa generalmente il costo medio ponderato a scaglioni annuali, cioè prendo le giocenze dell'anno precedente, valorizzate col valore dell'anno precedente, faccio il medione di tutti gli acquisti con fattura che ho avuto nell'anno e da quello determino il mio nuovo costo medio. non sempre si valorizzano tutti i magazzini allo stesso modo che significa che io ho il magazzino dello scarto ho dei pezzi che sono danneggiati che hanno un valore diverso rispetto al nuovo. Generalmente si fa una sola scrittura contabile a fine anno valore in magazzino ci metto la cifra secca e vado avanti e lo faccio per variazioni di materie prime semilavorati e prodotti finiti. Altra cosa importante è che l'inventario viene visto corretto rianalizzato in periodi che sono abbastanza posteriori a quella che è la data di chiusura dell'anno fiscale. E cosa molto importante è che i dati vanno storicizzati per evitare che i valori cambiano perché in Odu non abbiamo un qualcosa che ci dice ok non puoi fare più movimenti di magazzino per un periodo precedente ok quindi io per esempio potrei per errore dare una data nel passato e mi ha cambiato i valori di magazzino se li vado a ricalcolare per questo motivo la valorizzazione standard del magazzino non va bene per gestire l'inventario di fine anno di questa cosa se ne è parlato più volte in uno sprint che è stato fatto a Napoli in cui è nata l'idea di fare questo modulo poi grazie sempre alla community a Marcello Frare che se ne è andato lui ha preparato un modulo in draft che si chiama stock close period che è stato anche presentato l'anno scorso durante il io do che sono stati online e questa era la presentazione che ha fatto Marcello che qua nel link potete eventualmente anche andarla a vedere come funziona quindi quali sono gli obiettivi valorizzare il magazzino usando i modelli di calcolo costo medio standard e FIFO avere dei dati stabili possibilità di correggere i dati e di analizzarli poter gestire l'inventario in vari step analisi e valorizzazione che non convolgono gli altri oggetti per intenderci se io devo al 3112 ho un negativo in magazzino che mi esce da questa stampa che però poi è stato corretto successivamente io dovrei poter intervenire sull'analisi dell'inventario per andare a correggere questo numero perché questo numero poi mi finisce all'interno del mio bilancio e quindi questo modulo come funziona si fa un calcolo delle giacenze suddivise per magazzino e per lotto quindi io per ogni magazzino posso andare a stabilire qual è la quantità a quella data faccio un calcolo del costo medio di acquisto dei prodotti quindi tutto quello che sono materie prime vado a calcolare facendo tutti gli acquisti che ho avuto nell'anno andando a vedere però non l'ordine ma la fattura se la fattura non c'è prendo il valore dell'ordine se ho un materiale quello che io chiamo funghi cioè prodotti che nascono che non sono stati comprati non sono stati prodotti non sono stati ci sono ok prende il costo che ho indicato in anagrafica da questo poi vado a fare il calcolo dei prodotti che vengono di tutti gli altri prodotti che hanno una distinta base quindi potenzialmente qualcosa che io ho prodotto e parto a fare l'analisi di quello che ho prodotto quindi valorizzare la mia distinta base in base al costo medio che ho calcolato in precedenza vado a fare un report del valore inventario quindi lo stampo lo estraggo in excel lo analizzo lo conservo e lo tengo lì nel sistema per tutte le altre volte che mi serve di andarlo a interrogare e cosa importante tra uno strep e l'altro è sempre possibile correggere i dati come funziona io ho chiusura di magazzino genero una chiusura di magazzino che mi genera un record come questo qua che mi dà delle informazioni data di chiusura valore i calcoli quando è stato fatto se è validato oppure ancora in corso se apro uno degli inventari mi fa vedere i prodotti categoria e mi fa vedere i valori che il sistema mi ha calcolato posso sempre andare a fare modifica e quindi andare a calcolare dei valori questa è una cosa che forse qualcuno non piacere però io potrei trovarmi ad acquistare un prototipo di un oggetto che devo far comprare poi in serie il prototipo mi costa 50 volte il valore di quello che sarà la serie io dovrei valorizzarlo a quello che è il valore della serie soprattutto se lo metto in una distinta base quindi mi può succedere di dover dire questo oggetto in media mi costa 50 euro però io poi lo comprerò dal cinese che me lo produce in Cina e me lo fa pagare 15 centesimi io dovrei valorizzarlo a 15 centesimi potrei avere un prodotto che ho comprato un computer l'ho pagato 1000 euro non sono riuscito a venderlo è diventato un prodotto obsoleto sul mercato vale la metà io dovevo portarlo in bilancio esattamente alla metà e quindi devo fare devo poter fare una serie di correzioni che ovviamente la norma mi consente di fare che non possono andare a intaccare quello che è la fattura che il fornitore mi ha mandato che mi ha detto che io ho pagato 1000 euro su quel prodotto altra cosa importante dalla tri delle righe della valorizzazione io posso andarci a fare a usare tutte le funzionalità di UDU quindi raggruppa per raggruppa per lotto per magazzino per anno per tipologia di prodotto e quant'altro posso farne l'export analizzarlo correggere e rifare di nuovo l'import posso andarmi a tirare il report dell'inventario che è un file excel in cui mi vado a conservare questo oggetto e questo qua per me sarà farà parte dei documenti che ho a corredo alla chiusura del bilancio qualche piccola nota tecnica quindi il costo delle materie prime è quello che ho di acquisto e posso valorizzare sia standard che medio che significa che se io ho configurato quella categoria come standard il sistema prende il costo standard se invece l'ho valorizzato a medio FIFO nella configurazione lui andrà a farsi questo calcolo quindi dice giacenza a questa data aggiungo tutti i carichi degli acquisti e ottengo una nuova media finale che è un concetto diverso da quello che abbiamo visto come media che ci dà ODU di standard sono entrambi metodi validi poi va a fare l'esplosione quindi della distinta base con i costi che ho precedentemente elaborato tra tutte le fasi posso andare a fare delle modifiche perché se ho comprato una cosa che metto poi in una distinta base e ho necessità di cambiare il valore di acquisto di media di quel prodotto che poi viene utilizzato nella distinta base lo faccio prima di andare a elaborare i costi della produzione in questo modo il mio prodotto che ottengo alla fine dalla valorizzazione della distinta base nasce da un costo che è stato già corretto questo metodo modulo è stato pensato per poter avere varie modalità di calcolo che devono essere poi configurate attualmente sono presenti quelli là che vi ho detto vi ho fatto vedere però ci sono in azienda molto spesso calcoli che vengono fatti in maniera completamente diversa quindi nel caso in cui ci siano esigenze diverse si può andare a integrare questo modulo facendogli fare i calcoli senza andare poi a intaccare quella che è la struttura di tutta la movimentazione di magazzino nonché se è un metodo molto diffuso può essere integrato proprio all'interno del modulo stesso in modo che ne possano beneficiare tutti quanti per esempio mi è venuto in mente che il LIFO non so chi lo usa se lo usano più però non è contemplato una media assoluta cioè da quando io ho comprato la prima volta il prodotto nell'arco degli anni e quindi non solo dell'anno contabile oppure eventualmente al prezzo ultimo queste sono tutte quante metodologie che si possono implementare dove trovo il codice? questo codice noi l'abbiamo pubblicato sul nostro GitHub perché non è ancora maturo abbastanza per essere spostato in OCA ma è una cosa che vogliamo fare quindi andarlo a mettere nella localizzazione italiana cosa c'è da fare ancora per questo modulo è consolidare il codice e i vari metodi di calcolo se ce ne sono altri metodi di calcolo se ne si può sempre discutere pubblicare il modulo su OCA e fare il porting a V14 siccome questo modulo nasce con delle logiche separate da quello che sono le movimentazioni di magazzino eccetera va a prendersi soltanto dei dati il porting dovrebbe essere qualcosa di non complicato e che dovremmo poter essere in grado di fare anche a breve tenendo presente che i clienti che sono a V14 che hanno la chiusura a fine anno inizieranno a vedere questa roba verso gennaio quindi c'è un po' di tempo per portare questa cosa a casa e metterla a dominio di tutti quanti domande? domande? chi ha da dire qualcosa lo dico adesso o taccia per sempre? va bene allora io ringrazio Marco per l'intervento siamo tutti visibilmente stanchi a partire da me perché è stata una due giorni abbastanza intensa e ne approfitto per mettere a partire l'intervento per l'intervento